Un saluto a tutti i miei amici da Funga Ione. Allora, partiamo col primo. Uno. Si spostiamo un po' da questa parte. Due. Non male anche questo, dai, dai. Ecco qua. Due. Ok. Siamo a più. Non ci sarà mai lì? Tre. Bello anche quello, dai. Siamo a tre, eh, ragazzi? Allora, si spostiamo un po' qua. Tre. Sottiamo questo. Bello. Quattro. Sottiamo. Cinque. Bello. Un po' stringi e facciamo sei. Per concludere, teniamo su anche questo sberlotto qua. Un po' stringi e facciamo un po' qua. Opa. Un po' bell'ombrello che questo qua, dai. Stasera mi sa che... ...brizziamo, eh. Ciao ragazzi. Ci ragioniamo tra un po'. Ciao. Sì. Sì. Allora. C'era uno qui. Teniamo qua. Un tabarino. Questo qualcuno è ripestato. Comunque. ecco andiamo lo stesso si è fatto un po' maluccio ma va bene posiamo lì comunque due andate un po' guardate che bello friggere si friggere due poi ci spostiamo un pochino e allora tre che sera direi che ci siamo ecco qua ok guardate il tempo perché sennò qui si stavano ancora qualche giorno un pochino un pochino un pochino un pochino trovare non un pochino troppo un po' di giovane che aveva un po' di smaglia, volevo arrivare ma come si fa? eccoci ragazzi allora una ripresa rapida dopo sì che sono arrivato c'è mezz'ora più o meno, mezz'ora 40 minuti, a dopo la zanetta è impazzita ok direi che andiamo più che bene bye bye a presto